Bagnare un panno per proteggere bocca o naso, spegnere il cellulare, chiudere il gas, non usare il cellulare e ancora chiudere ermeticamente porte e finestre. Più che un vademecum sono indicazioni da panico quelle per i residenti del quartiere San Paolo di Bari. Nei giorni scorsi hanno ricevuto queste ed altre direttive in un vademecum informativo per un sospetto allarme ambientale imputato alla ditta Bravi Trasporti Logistica in contrada del Tesoro. All'interno dello stabilimento vengono movimentati e depositati fitofarmaci, prodotti chimici ed alcune sostanze tossiche per l'ambiente. A consegnare il vademecum contenente le indicazioni a firma del sindaco Michele Emiliano sono stati alcuni vigili urbani che a detta dei residenti del quartiere si sarebbero limitati a imbucare il documento nelle cassette della posta chiedendo a qualche condomino una semplice sigla di avvenuta consegna. Nel giro di poche ore sono scattati allarme e preoccupazione dei residenti del quartiere che a tutt'oggi continuano a non comprendere quanto stia accadendo visto che, dicono in tanti, quello stabilimento è presente da molti anni nel quartiere. Quindi perché rendersi conto soltanto adesso che esistono seri rischi ambientali? Intanto dal comune fanno sapere, attraverso un'altra comunicazione, che non esiste alcun rischio ambientale che il documento consegnato ai cittadini nei giorni scorsi rappresenta un atto dovuto previsto dalla normativa sulla sicurezza della protezione civile, già inviato nel 2009 che deve essere rinnovato ciclicamente. Ma i residenti non ci credono affatto. Sulla vicenda che fa tremare di paura tante famiglie è stato costituito un comitato che intende vederci chiaro. Domani la circoscrizione ha in programma una riunione straordinaria, mentre i residenti chiedono che a comunicare e rasserenare davvero la popolazione sia il primo cittadino in persona. Devono dare delle spiegazioni molto ma molto più esaurienti, non si può dire che è una forma sbagliata di comunicazione. Qui anche un discorso di allarme di sirena è del tutto sconosciuto. Voglio dire, nell'emore che si chiarisca la situazione di questa azienda, quantomeno la popolazione deve essere informata bene anche del momento del rischio. Conoscere una sirena, il suono di una sirena, mi pare che sia basilare. Dal momento in cui noi abbiamo cominciato a guardare questa cosa, stranamente la distribuzione di questi fogli si è interrotta. E allora abbiamo provveduto noi a informare l'agenda con delle locandine. E' evidente che domani alle 16 ci sarà questa assemblea, noi non faremo mancare la nostra voce e quindi comunicare il nostro disappunto. E non solo, devono necessariamente chiarire il pericolo che corre questa gente.